Emma Marrone è davvero esplosiva. La cantante Salentina non trattiene l'emozione. Che sogno incredibile. E, incantevole, fan scatenati. Emma è certamente tra le cantanti più famose d'Italia, una vera e propria garanzia del panorama artistico e musicale del nostro paese da oltre dieci anni. Amici di Maria De Filippi, come ad altre sue colleghe, le ha regalato lo slancio. Poi il suo talento ha fatto decisamente il resto. Ed ora è una delle più apprezzate e ricercate, con successi non solo italiani, ma anche a livello europeo e mondiale, tra dischi di platino e multiplatino e collaborazioni a tutto tondo. Cantante ma non solo, perché è stata anche valletta al Festival di Sanremo e soprattutto attrice nel film, Gli anni più belli, voluta fortemente da Gabriele Muccino. Una performance che ha impressionato non poco il regista, pronto a regalarle altre possibilità anche dietro al grande schermo. Ma Emma è anche una vera e propria influencer. Un profilo Instagram da 5 milioni di follower che ne fa una delle più seguite. Una vita artistica davvero, full, per la marrone, mentre quella privata al momento non regala novità. Dopo le relazioni avute in passato con Stefano De Martino e Marco Bocci, al momento pare sia single, anche se è molto riservata sotto l'aspetto sentimentale. Sensualissima. Emma lascia senza parole con la sua bellezza. Recentemente ha pubblicato un'immagine in cui è ritratta con una maglia trasparente che evidenzia il suo décolleté generoso coperto da un reggiseno nero. Una foto che ha scatenato i suoi fan, con tantissimi commenti di complimenti, uniti ad emoticon di fiamme e cuori. Nell'ultimo post, invece, Emma ha mostrato tutta la sua fragilità e felicità per quanto accaduto. La pandemia da Covid ha messo a dura prova tutti, gli artisti in primis, ed ha voluto scrivere un lungo messaggio per esprimere la sua gioia per essere tornata a cantare su un palco. Ed il primo piano è devastante, con una canotta bianca che risalta le sue forme. Grazie a tutti. Grazie a tutti.